La cronaca a Rimini dal sorvegliato speciale latitante in manette finito un pericoloso malvivente. In primo piano torniamo ad occuparci dell'omicidio avvenuto due anni fa a Misano Adriatico, 30 anni al killer che freddò il rivale nel parcheggio del supermercato Kona. Islam, Chiesa e Moschia Bologna scelte spettano ai territori e dice attenzione a ricondurre fedeli a personaggi meno affidabili. Ed infine parleremo anche di sport al centro, il basket, la palla a spicchi si palleggia nei padiglioni di Rimini Fiera. Per i trovati con la nostra informazione, dunque questi i principali titoli del nostro telegiornale, il nostro primo piano dedicato alla sentenza, alla Corte d'Assise e al Tribunale di Rimini, 30 anni di carcere al killer, al killer che freddò il rivale nel parcheggio del supermercato Kona a Misano Adriatico. I particolari nel servizio. Niente er gastolo ma 30 anni di carcere per Paoli e Nicai, il killer che ha freddato con sette colpi di pistola il rivale nel parcheggio del Kona a Rio Agina a Misano Adriatico. I giudici della Corte d'Assise e del Tribunale di Rimini, dopo signore di Camera di Consiglio, hanno escluso le aggravanti della premeditazione dei motivi abbietti e futili. Il 17 marzo del 2014, l'albanese sperò al connazionale di 25 anni, Nimeth Ziberi, uccidendolo davanti alla moglie incinta e due figli piccoli nel parcheggio del supermercato. Il killer era poi fuggito, la sua latitanza era stata coperta da diversi parenti che gli avevano agevolato la sua fuga verso la Svizzera. La difesa, nel corso del dibattimento, aveva puntato sulla figura mite mansueta del camionista di 36 anni, finito vittima delle vessazioni della famiglia rivale attraverso il codice Canun, regolamento d'onore balcanico medievale e del precipitare degli eventi, si era trovato costretto ad uccidere il ragazzo rivale. Già cinque mesi prima del fatto di sangue, i due avevano avuto un'accesa lite in un bar. L'accusa, nella sua richiesta di condanna, aveva chiesto per Ziberi l'ergastolo con sei mesi di isolamento di urno, mentre la difesa, che ha già annunciato il ricorso in appello, la soluzione. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara. Per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. E parliamo ancora di cronaca. Una carriera criminale di tutto rispetto per un 34enne arrestato ieri dal personale della squadra mobile della Questura di Rimini. L'uomo, originario di Bari, ma da qualche tempo residente in città, doveva scontare una pena definitiva di 7 anni. Un mese e 24 giorni per una lunga serie di reati che vanno dalla rapina all'attentata, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i reati commessi in Puglia dal 2003 al 2005. Rimasto coinvolto anche in due sparatorie dove era rimasto ferito. Come riporta anche il quotidiano online Rimini Today, arrivato a Rimini, si era reso protagonista di altre vicende criminali. Tanto che dal 2008 al 2010 era stato più volte arrestato e denunciato. Su proposta della divisione anticrimine della Questura era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma era sparito fino a quando è stato individuato e arrestato. Andiamo avanti. La cosa che posso dire è che le scelte spettano ai territori che non devono dimenticare che l'integrazione, le politiche di integrazione sono uno strumento importante anche per prevenire i conflitti. Quindi oggi, a mio avviso, negare il diritto di una persona di poter professare la propria fede lo si ricoduce all'illegalità, alla possibilità di affidarsi a personaggi che sono meno affidabili. A dirlo, a margine della presentazione di un libro dedicato a Giovanni Bersani, l'ex ministro e attuale europarlamentare, Cecil Chienge, rispondendo ad una domanda sul dibattito aperto ieri dall'arcivescovo di Bologna riguardo l'opportunità di costruire una moschea in città. La scelta spetta ai territori, ha ripetito Chienge, ma le politiche per l'integrazione sono un ottimo strumento per prevenire quei conflitti che stiamo vedendo in tantissime parti d'Italia e d'Europa. E ora torniamo ad occuparci del reato di omicidio stradale perché è grande soddisfazione da parte dell'ASAPS e lo sentiamo direttamente dalle parole del Presidente dell'Associazione Giordano Biserni e ha detto un grande risultato. Sentiamo. È stato un impegno notevole con la raccolta delle firme da parte dell'ASAPS insieme ad associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgoni di Firenze. Il primo filmatorio allora fu un certo Matteo Renzi, che allora era sindaco della città. Poi quando i pianeti si vogliono allineare positivamente succede che diventa Presidente del Consiglio ha assunto come impegno anche quello di portare a termine questo progetto che era nato proprio nella nostra città. La legge è stata varata che prevede delle sanzioni piuttosto severe, da 8 a 12 anni per chi uccide perché è ubriaco o drogato, da 5 a 10 anni per chi uccide superando oltre 50 km il limite di velocità previsto o perché attraverso un semaforo con il rosso o ancora perché va contro mano uccidendo ovviamente. Ci sono quindi poi anche abbinate delle rete a quella patente che vanno da un minimo di 5 anni per le lesioni grave, gravissime, fino a 15 anni per chi causa la morte sempre da ubriaco o drogato fino a 20 anni se recitiva eccetera. È un risultato notevole con alcuni aspetti della legge che non hanno rivisti perché ci sono alcune incongruenze che noi non possiamo far finta di non vederle perché la legge contempla delle situazioni che nella nostra proposta non c'erano. Noi eravamo fermi all'alcol, alla droga e alla pirateria stradale. Sono aggiunte altre violazioni. Ora vedremo se terranno anche il fronte al confronto delle sentenze o della stessa Corte Costituzionale. Per esempio il fatto che si preveda una penna da 5-10 anni per chi attraversando con il rosso uccide e non la si preveda per chi buca non stop su una statale. Facciamo finta che uno buchi non stop in una statale atriatica. Per esempio il pericolo è identico. Però le situazioni poi prevedono condanni diversi. Questo ci crea qualche perplessità così come altri aspetti. Però è una legge che dice stop alla possibilità di uccidere sua strada e farlo impunemente. Con questa legge l'omicida di Jonathan, il piccolo bambino di Ravenna, oggi rischierebbe una pena fino a 12 anni, mentre in realtà non sta spuntando praticamente nessun giorno di galera. Questo è un risultato importantissimo e speriamo che sia una svolta positiva anche in termini di sicurezza. Certo, se non affianchiamo formazione, educazione stradale e controlli, non è che possiamo sperare che questa legge da sola riesca a risolvere tutti i problemi. Ed ora invece parliamo di un furto. Torniamo a Rimini, avvenuto nella notte ai danni dell'officina Safety Car di via Casalecchio. Secondo quanto è emerso il titolare, aveva chiuso i capannoni intorno alle 21 di ieri dopo aver inserito l'allarme e se n'è andato. Soltanto verso le 3.30 del mattino durante un passaggio della vigilanza privata il furto è stato scoperto. Si tratta di un bottino molto ingente, più di 250.000 euro stando alle prime stime con i malviventi che hanno fatto sparire tutto il magazzino dei pneumatici il cui valore si aggira sui 150.000 euro più ricambi per auto e le apparecchiature elettroniche per quanto riguarda il controllo dei veicoli. La banda, che pare abbia operato in tutta tranquillità essendo riuscita a manomettere il sistema di allarme, si è accanita anche negli uffici mettendoli a soquadro e spaccando porte mobile per cui impossessarsi dei computer. Neanche le macchine del caffè sono passate indenne, sono state forzate e tutti gli spiccioli che erano all'interno rubati. Con molta probabilità si è trattato di una banda specializzata arrivata sul posto con un camion, tanto che i malviventi si sono impossessati anche dei videoregistratori del sistema di telecamere a circuito chiuso. Bene, adesso per gli altri aggiornamenti passo la linea a Marcello Bartolini, a te. Sì, grazie San Luigi, buonasera, gli aggiornamenti dalla redazione. Un incendio devastante quello che ieri sera ha completamente distrutto una casa mobile, siamo nel Riminese, le fiamme si sono spigionate verso le 21.40, San Martino in Riparotta facendo accorrere tre automezzi dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha lavorato per oltre tre ore prima di riuscire a mettere in sicurezza la zona mentre l'abitazione è finita in cenere. In un primo momento sul posto era stata richiesta anche l'ambulanza del 118 dal momento che si temeva che all'interno della struttura potesse essere rimasto intrappolato qualcuno. Sono in corso gli accertamenti anche da parte della Polizia di Stato per cercare di accertare la natura dell'incendio. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Forlia hanno arrestato un 22enne con l'accusa di detenzione e coltivazione spaccio di sostanze stupefacenti nonché per aver favorito la consumazione. L'attività antidroga si è svolta nella tarda serata di ieri. I militari dell'arma che da qualche tempo tenevano d'occhio la dimora del ragazzo hanno documentato l'antirivieni di persone all'interno dell'abitazione e dall'abitazione naturalmente all'esterno divenuto punto di riferimento per assuntori di marijuana. Gli uomini dell'arma hanno fatto irruzione in casa trovando oltre 20 grammi di sostanza dunque di marijuana ma in una camera da letto in bagno è stato trovato una vera e propria serra. Sono state sequestrate diverse piante alcune anche di grosse dimensioni, diverse lampade a led, termometri, aspiratori, teloni ed altro materiale utilizzato per la coltivazione in casa della sostanza. Al momento del blitz erano presenti tre giovani di 18, 21, 24 anni si tratta di uno studente e di due operai del luogo trovati rispettivamente con un grammo di sostanza acquistata proprio ieri e nei giorni scorsi. Dal 22enne secondo quanto accertato dai carabinieri il responsabile era solito anche ospitare persone in casa dove oltre a cedere la sostanza molto spesso permetteva ai suoi acquirenti la consumazione. 22enne si trova adesso agli arresti domiciliari, stamattina durante l'udienza di convalida ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Bene, io mi fermo qua dalla redazione per gli aggiornamenti Gianluigi, ti restituisco la linea. Sì, grazie Marcello. Andiamo avanti con il giornale. Si spacciava per un profugo seriano in Italia per chiedere asilo ma in realtà era un pregiudicato nordafricano con alle spalle diversi reati. I controlli della Polizia di Stato di Rimini nelle strutture ricettive hanno portato all'arresto del ventenne marocchino che è stato beccato in un residence di Bella Riva. Lo stagnero senza documenti è stato portato in questura per gli accertamenti e dalla banca dati è emerso che il giovane aveva diversi alias e di volta in volta si spacciava per Algerino o marocchino. Emessa la sua vera identità e relative ai precedenti anche di particolare gravità sono state avviate i documenti per il suo allontanamento dall'Italia. è stato trasportato a Torino il centro di identificazione e espulsione. I costi dei controlli sono state identificate complessivamente 32 persone e al vaglio della divisione amministrativa della questura eventuali infrazioni in ordine alla conduzione dell'attività. Cambiamo argomento, parliamo di vacanze perché in un certo senso in questi giorni, nonostante ci avviciniamo da calendario. All'inizio della primavera è tornato l'inverno e sorridono gli operatori turistici della montagna. Vediamo. Siamo di nuovo in montagna, siamo sulla neve, qui di fianco a me l'amministratore delegato delle Fonivie Folgari da Marileva. Chiedo subito dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo in una cabina di un impianto lungo 4,5 km. È l'impianto che dal fondo valle della Val di Sole da quota 800 metri ci porta a 2040 metri, quindi direttamente in quota. Tra l'altro si tratta di un impianto che ha vinto un premio, un premio a livello europeo perché è un impianto ecosostenibile. A valle arriva il treno, si scende dal treno e si entra direttamente in cabina e la peculiarità di queste cabine molto spaziose, sono a otto posti, è che sono radenti a terra e quindi si riesce a salire e sono anche predisposte per i diversamenti abili. Quindi direi un impianto innovativo, è costato anche 30 milioni. Noi ci troviamo in una delle 150 cabine che sono in linea. Come vedete anche dal panorama esterno è venuta molta neve da quota fino a valle e in questo mese di marzo, quindi grazie anche a questo impianto e a tutte le piste ci si può godere veramente una sciata perfetta. Naturalmente siamo ormai in una stagione piena. Come sta andando in questo momento? Siete contenti? i risultati sono buoni? Sì, i risultati sono buoni, a parte dicembre che è partito con qualche difficoltà perché il meteo ci ha messo a dura prova. Gennaio è andata molto bene, il carnevale benissimo, quindi anche febbraio si è chiuso bene. Marzo direi che sta partendo anch'esso molto bene, è venuta la neve, tanta e questo farà sì che noi possiamo andare avanti in questa lunga stagione, che è ancora lunga, fino al 10 di aprile. Quante persone sono impegnate nei vostri impianti per assicurare l'ottima condizione delle piste e degli impianti? Allora, noi abbiamo 25 impianti e 36 piste da sci, siamo collegati a Campiglio e Pinzolo, in totale si arriva a 60 impianti e 97 piste. Folgari da Manileva ha 212 dipendenti in questo momento, ce ne sono circa altri 185 a Campiglio, un altro centinaio a Pinzolo, quindi facendo il calcolo si arrivano a 500 addetti per mantenere questa grande schiaria di 150 chilometri di sci tutti collegati. E c'è ancora una notizia che riguarda la cronaca, ha postato a Fotoar dell'ex fidanzata, ha messo Fotoar dell'ex fidanzata come immagine profilo di Whatsapp, si tratta di un cinquantenne del bolognese che ha caricato sul proprio cellulare non pensando alle conseguenze. L'uomo, al termine di una relazione con una ragazza straniera di 26 anni, residente nel riminese, aveva pensato di utilizzare la foto dell'ex compagna completamente nuda ma di spalle come immagine del proprio profilo del servizio di instant messaging, accompagnandola con una frase ingiuriosa. Notare la cosa è stato un amico comune della ex coppia che guardandola attentamente ha notato un tatuaggio familiare sul polso della 26enne. A questo punto l'uomo ha chiamato l'amica per chiedere se avesse quel particolare tatuaggio. La giovane ha messo il dettaglio chiedendo a sua volta il motivo di quelle domande. La 26enne è così venuta a conoscenza di quell'immagine arde e si è rivolta ai carabinieri per sporgere. Denunce i militari dell'arma al termine dell'indagine hanno identificato il cinquantenne e trovato il cellulare con la foto compromettente denunciando allo stesso tempo l'uomo per difamazione. Ed infine andiamo a vedere che cosa ci riserva l'agenda del weekend. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene il telegiornale termina qui. Vi ricordo dopo la sigla di chiusura, l'avete visto anche nei titoli, parleremo di basket con un nostro approfondimento al centro, la manifestazione in questi giorni in programma nei padiglioni della Fiera di Rimini. Approfondimento a cura di Marcello Bartolini. Bene, dicevo con questo è davvero tutto, vi ricordo che la nostra informazione, edizione quotidiana, la nostra informazione torna a partire dal lunedì e intanto a tutti voi una buona domenica. Arrivederci. basket protagonista qua in Fiera di Rimini fino a domani, domenica con Ritman Basket, ovvero il festival della palacanestro, l'occasione naturalmente per scoprire un mondo che in Italia sta gradualmente acquistando tanti proseliti ma soprattutto per fare promozione, Ritman Basket. È un modo per vivere il basket in maniera diversa rispetto al solo aspetto agonistico. Il basket festival è un modo dove il mondo del basket si ritrova non solo per le partite ma anche per l'attività giovanile, per la parte commerciale, per la parte professionale con workshop e convegni sull'impiantistica, sull'alimentazione. una festa dove gli appassionati di basket cercano di vivere questo mondo a 360 gradi, non solo quindi sotto l'aspetto della gara, comunque importante perché le finali di Coppa Italia coinvolgono 18 squadre, ci sono 15 partite in tre giorni, domenica ci sarà la finale della 2 con diretta su Sky, quindi un mondo del basket che si ritrova a Rimini e fa di Rimini la capitale del basket italiano. Il vostro è uno sport importante, non secondo personalmente al calcio ma a livello di visibilità ancora qualcosa manca? Sì sicuramente, noi non guardiamo tanto agli altri, dobbiamo lavorare sul nostro prodotto, il prodotto sportivo che portiamo a Rimini come lega nazionale Pallacanese è la fase finale di Coppa Italia, di campionati dove il 92% dei giocatori è uscito dai vivai italiani, quindi è un prodotto veramente di Pallacanese italiana, la proposta di Citroën R&B Basketball Festival però è a 360 gradi, non solo le partite ma tante altre cose, a cominciare dall'ingresso gratuito in fiera che consente di vivere tutti gli spazi che sono allestiti per il terzo anno consecutivo a Rimini Fiera ed è uno spazio veramente aperto a tutti, soprattutto alle famiglie, soprattutto ai giovani, soprattutto ai bambini che qui hanno la possibilità di incontrare giocatori, autografi, cercare insomma un momento di grande contatto che poi può anche in seguito ricadere sulla presenza nei nostri palasporti. È un segnale che pure se la nostra è la lega dei club di serie A2 e serie B ci sono stand di investitori del settore Pallacanestro ma ad esempio uno stand molto prestigioso è quello dell'Olimpia Milano col marchio Armani. La dimostrazione è che il movimento della Pallacanestro italiana, in questo caso di Lega Nazionale Pallacanestro può essere un motivo di interesse per i tanti visitatori di questa fiera e quindi anche i club di serie A possono avere il loro spazio, la loro riconoscibilità e il loro successo. E per fiera di Rimini questo è comunque anche un momento d'eccellenza perché voi insomma vi occupate di tanto, di tutto e di più, lo sport è comunque un segmento importante che per voi? Proprio con questi format che cercano di coniugare l'aspetto agonistico agli aspetti B2B professionali ma anche agli aspetti con il pubblico. Oggi abbiamo non solo il basket ma il tiro con l'arco, sport dance, avevamo iniziato con Rimini Wellness quindi tante presenze per il territorio, eventi che fanno comunque dello sport un centro di attività importante e stiamo lavorando anche ad altri progetti per le prossime edizioni. Grazie! 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 Grazie!